Vincere lo stallo nella perdita di peso, vincere quei momenti dove la bilancia si blocca e nonostante le diete il peso non scende. Io sono Luca Veronese, esperto in strategie bruciagrassi e metabolismo lento e oggi voglio condividere con te questa informazione molto importante che ti può aiutare ad evitare momenti di stallo, di sconforto, dove nonostante se sei qui probabilmente avrai già fatto tante diete e arrivi a un punto, un momento dove tutti siamo arrivati più volte, io compreso, perché io ho un metabolismo lento e vedremo come mai in realtà si causa questo stallo e come vincerlo in maniera intelligente. Allora, l'errore più comune quando si fa un percorso di dimagrimento ormai c'è una idea collettiva che sia solo una questione di calorie in entrata, calorie in uscita quindi se mangio meno calorie di quelle che consumo dovrei dimagrire, però a quanto pare arriviamo a un certo punto, questo funziona magari il primo mese, le prime 6-8 settimane, poi a un certo punto il corpo va in stallo. Succede questo perché prima di tutto il corpo funziona attraverso il metabolismo ed è di metabolismo che parliamo in questo canale e ti spiegherò come mai, che cos'è il metabolismo in maniera semplice e soprattutto che cos'è il metabolismo lento e qualche trucco appunto per accelerare al massimo il tuo metabolismo. Quando parliamo di dieta nel senso di dieta restrittiva, in maniera molto banale, come se venisse una crisi mondiale, una guerra, noi entriamo in uno stato di carestia, carestia di materie prime, carestia di alimenti, carestia di tutto, quindi il corpo noi è normale che facessimo scorta di tutto quello che possiamo perché non si sa quando questa cosa tornerà come prima. Logico, no? E quindi immagazziniamo. Quando noi iniziamo una dieta il corpo fa lo stesso, è ovvio che al primo mese riusciamo a fregare il corpo perché ora che se ne accorga e che mette in moto dei meccanismi passa del tempo, però dopo un certo punto il corpo si adatta e blocca questa perdita di peso che la vede come una situazione d'allarme, spiegata molto semplice. Quando noi parliamo di perdere peso, di energia, di dimagrimento, di performance, dovremmo parlare di metabolismo. Perché? Quando noi parliamo di metabolismo è come se stessimo parlando del motore di un'automobile. Tutto il mondo si concentra nella benzina che mettiamo nell'automobile, ma è una questione di efficienza. Mi spiego meglio. Se ho un'automobile che funziona bene, è un motore che funziona bene, nuovo, può farmi 20 km con un litro. Ma lo stesso motore, se fosse vecchio di un'automobile più vecchia o avesse qualche problema, è meno efficiente. Sparo a caso, potrebbe farmi 6 km con un litro. Quindi ci sono automobili ad oggi più efficienti e meno efficienti. Quindi quando parliamo di metabolismo parliamo di motore. Che cos'è e dove avviene il metabolismo? Il metabolismo avviene all'interno della cellula. Noi abbiamo, nella cellula abbiamo dei mitocondri che sono realmente dei piccoli motori che producono l'energia. Sono letteralmente quelli che mi fanno il metabolismo. Però, detto banalmente, io ho bisogno di glucosio che entra nella cellula e ossigeno. Glucosio attraverso proteine, carboidrati e grassi. Questo, se tutto va bene, tutto il metabolismo va bene, e non è detto che vada bene perché ci sono tanti fattori che possono influenzare il mio metabolismo, io produco 38 unità di ATP. Questa energia mi dà il movimento. Ed è qui che la persona si allena, va a correre, va in bici, si sveglia piena di energia, dorme bene perché è energia sufficiente per dormire bene e così via. Ma se noi banalmente, a questo stesso processo, interrompiamo per esempio l'ossigeno, la cellula produce solo due unità di ATP. Quindi da 38 passa a due. Quando una persona ha, per qualche ragione, una scarsità di ossigeno, che possono essere le cose più banali, disidratazione, un ipotiroidismo subclinico che non so di avere, e tanti altri fattori che mi interferiscono con la quantità di ossigeno che mi arriva alla cellula, il mio metabolismo inizia a funzionare male. Una persona che ha un metabolismo lento è una persona che non riesce ad avere un'efficienza da quell'energia che entra. È un problema di mancanza, mancata produzione di energia. E questo avviene dentro la cellula. Quindi, in conclusione, per dire che, e questo era il primo punto, l'errore più comune alle diete restrittive, la perdita di peso non è un'equazione lineare. Non è calorie che entrano, calorie che escono, perché poi c'è il metabolismo, che è letteralmente quello che accade all'interno della cellula, quello che accade all'interno del mio corpo. E' come se io buttassi da una finestra, da un grattacielo, un chilo di piombo, cadrebbe velocemente, giusto? O un chilo di piume. Sono sempre un chilo, ma c'è la resistenza dell'aria, che è il metabolismo, che fa tutta la differenza sulla velocità con cui questa caduta del piombo o delle piume può avere. Quindi, fattori che riducono il mio metabolismo. Io sono 15 anni che aiuto le persone a perdere peso e in questi ultimi anni a migliorare il metabolismo. Ho fatto tante scoperte, ho studiato tantissimo e sono contento e felice di aver aiutato centinaia di persone a perdere peso e liberarli soprattutto dalla schiavitù delle diete, che come abbiamo visto, appena una persona ha del sovrappeso, obesità o diabete, che sono causati da un problema di produzione di energia, un problema di metabolismo. I problemi metabolici ad oggi sono tantissimi. Si stima che entro il 2030, livello generale, mondiale, queste sono stime, una persona su due sarà obesa, non sovrappeso, obesa. Il 50% sarà obeso entro il 2030. Non stiamo parlando di tanti anni. Fattori che riducono il metabolismo. Te ne riporto alcuni e ti do anche, per ogni problema, degli ulteriori video di approfondimento che tu puoi andare a vedere qui sul canale. Quindi oggi, non l'ho detto all'inizio, oggi è il video numero 100 del canale YouTube. Grazie per avermi sostenuto in questi 100 video e so che questi 100 video hanno avuto una potenza brutale perché tanti di voi hanno ottenuto risultati grazie a questi video. Quindi commenta pure qui sotto al video se hai ottenuto dei benefici con questo canale perché mi fa molto piacere sapere che effetto hanno questi video, positivi ovviamente. Quindi scrivimelo qui sotto nei commenti se hai avuto dei benefici, hai perso peso, solamente grazie ai video qui su YouTube. Grazie. Primo fattore, ormonale. E tra gli ormonali il primo è sicuramente la tiroide. Qui trovi nel canale una playlist. Se vai su playlist e trovi una playlist dedicata alla tiroide perché la tiroide decide letteralmente quanto ossigeno entra nella cellula. La tiroide può... Non è detto che io dalle analisi devo avere chissà che analisi sballate, ma a volte è sul clinico e c'è un test che invito a fare, che è quello di misurare la temperatura sotto alla lingua. Che questo è certo che funziona, nel senso è un dato che non si può contraddire. Se la mia temperatura è inferiore a 36,5, molto probabilmente ho una tiroide che non sta funzionando bene o la mia conversione da ormone T4, ormone T3 non sta funzionando bene. Insomma qualcosa che non va c'è. Che può essere una deficienza di qualche minerale, può essere un'alimentazione incorretta e così via. Vai alla playlist se questo pensi sia il tuo problema. Due, beh, ciclo circadiano, ovviamente se uno sballa il suo ciclo ormonale, questo influisce sicuramente sul mio metabolismo. Disidratazione, questo è un tema abbastanza banale, però non così scontato, nel senso che una cellula di acqua è fatta da una grande parte di ossigeno e due piccole di idrogeno, quindi quando io mi sto idratando sto apportando ossigeno al mio corpo. E quindi essere ben idratati è banale da dire, ma è la prima cosa da fare. Sempre qui sul canale trovi una formula semplice di quanti bicchieri d'acqua devi bere. Possono essere problemi digestivi, possono essere fattori di stress. Questo è un tema importante perché non è solo stress emozionale, non è solo stress nutrizionale, non è solo gli alimenti aggressori che questi sono stati una scoperta fantastica perché ha permesso a tante persone di capire quali alimenti letteralmente gli stavano bloccando la perdita di peso. Io ho scritto una guida che si chiama appunto gli alimenti aggressori, la trovi sempre su ModelSoup o all'interno del manualone che ho fatto, manuale del personal program, ma trovi anche dei video YouTube. Io ti invito a partire dall'episodio numero 76 dove ne parlo. Può essere un deficit nutrizionale, mancanza di vitamine. Ad oggi con le alimentazioni del giorno d'oggi si stima che un 70-80% della popolazione mondiale, poi dipende dalle zone, intanto è carente di magnesio. Questo è il primo e infatti supplementare con del magnesio è la prima cosa più importante. Può essere di vitamine, perché? Perché si mangiano cibi processati, si mangiano cibi che portano tante energie e scarsi nutrienti e a volte può essere anche una sola vitamina che mi crea un disordine o un problema, può essere anche un solo minerale. Basta pensare che a volte per esempio per la tiroide il fa bisogno di qualche microgrammo di minerale, di vitamina e che però sono microgrammi indispensabili. Quindi ad oggi c'è tanta malnutrizione e il deficit nutrizionale, una cosa importante, puoi partire dall'episodio 95. Alimentazione scorretta, ovviamente diete, diete che si basano sulla conta delle calorie, però all'interno hanno un sacco di alimenti che non potremmo neanche definire alimenti. Io faccio applicare la libertà alimentare, che è la cosa più semplice in assoluto, ti libera letteralmente dalla schiavitù delle diete. Per capirci di più puoi andare all'episodio numero 20 qui sul canale YouTube. Infine, scarsa qualità del sonno. Quando io ho un metabolismo che non sta funzionando bene, ho una scarsa produzione di energia o ho qualcosa che non va, il sonno viene disturbato. La persona non dorme più bene, non riposa più bene. Qui si crea un circolo negativo perché inizio a produrre più cortisolo, dormo male e così via. Quindi ripristinare un'ottima qualità del sonno è qualcosa di importantissimo. E ho fatto tre video completi, 82, 83 e 84, dove parlo unicamente del sonno, tecniche per dormire meglio, quali sono le cause, integratori utili e cosa fare per ripristinare un sonno. Ora, questo è il video 100 del canale YouTube e ho una novità da annunciare. So che tantissimi di voi mi hanno detto, Luca, perché non fai consulenze? Luca, perché non fai coach? Oggi, per tutte le persone che vorrebbero fare un percorso guidato di ripristino del metabolismo, di perdita di peso, tornare a stare bene, risolvere tutti i problemi legati appunto al metabolismo, l'1 dicembre, ovviamente di quest'anno, parte il primo percorso ufficiale di live coaching con me. Quindi sarà una sala, sarà una classe dove ti verrà dato accesso a un videocorso con tutti i passi di ripristino, ti verrà dato accesso a delle live coaching, delle coaching live con me, nella sala di coach appunto che sto creando e sarà un percorso di ripristino totale del metabolismo, dove avrai tutta la supplementazione strong, intensa, che in 3-4 settimane ti permette di fare un ripristino, un restauro completo del tuo metabolismo e questo è la concretizzazione di un anno di lavoro, di studio, di scrittura, perché ho scritto un manuale grosso così e sono veramente felice che tu primo sia qui nel canale a vedere questo video perché ovviamente quando si ha una passione e si condividono degli aiuti è sempre bello vedere che ci sia dall'altra parte una risposta, un interesse. Quindi abbiamo già vinto qui perché questo mi fa veramente piacere. Però se vuoi un aiuto ulteriore ed è semplicemente un aiuto ulteriore che ho voluto mettere per richiesta perché avevo promesso di non fare più coaching individuali perché non ne trovo l'utilità. Adesso non sto scherzando però a monte di tutto quello che ho detto è molto importante che una persona prima di arrivare in qualcosa di individuale faccia tutti i passi che sono basici perché se una persona arriva in coaching e non ha fatto nessuno di questi passi, dobbiamo partire da zero e sarebbe appunto un ripetere per l'ennesima volta. Quindi questo ho messo in una sequenza corretta tutti i passi del ripristino e tu puoi accedere e fare un ripristino assieme a me live e farmi domande eccetera eccetera. Lo trovi su modelsoups.it e nel menu trovi scritto personal program e anzi se entri in model soup lo trovi e questo è il personal program ha varie opzioni un mese, due mesi, tre mesi e così via. Quindi in una maniera gratuita semplicemente seguendo il canale hai 100 video che parlano unicamente di perdita di peso, ripristino del metabolismo, alimentazione, integrazione e test da fare tutto e di più oppure ti agganci a questa opportunità del primo dicembre e facciamo un bel ripristino del metabolismo assieme. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti sia stato utile e noi ci vediamo sempre qui tre volte a settimana.